Sì, sicuramente per la Regione Marche è un orgoglio perché è il primo festival della scenografia a livello europeo quindi noi ci abbiamo creduto sin dall'inizio e soprattutto perché vede come direzione artistica Dante Ferretti un premio Oscar, quindi un numero sicuramente uno per quello che riguarda la scenografia e tra l'altro sarà un modo particolare di far conoscere anche la nostra Regione oltre i propri confini naturali. Quello che ci è piaciuto in maniera particolare è sicuramente anche il coinvolgimento di quattro comuni molto importanti della nostra Regione da Potenza Picena, Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, quindi che sicuramente sono dei comuni che hanno delle grandissime eccellenze un festival non scontato, un festival che vede una masterclass, quindi la possibilità a tante persone di avvicinarsi a questo mondo e un festival che coinvolge poi anche da un punto di vista dello spettacolo dal vivo con appunto spettacoli, con delle mostre che sicuramente saranno ovviamente all'altezza della situazione insomma e quindi la Regione è molto attaccata all'aspetto del cinema soprattutto perché anche questo reputiamo che sia uno strumento che consenta proprio di far conoscere la nostra Regione e di valorizzarla sia da un punto di vista culturale che turistico. Grazie. Grazie. Grazie.